Grazie. Quindi il fatto di avere con noi qua a Serena questa giornata sta a testimoniare anche il fatto che questo tipo di evento su scala nazionale e diciamo su scala a livello del mondo agenziale è molto importante. Lei ci darà proprio una testimonianza di quello che è stato il monitoraggio all'interno dell'agenzia e quali sono le prospettive nel prossimo anno. Sono in Ispra da svariati anni, vengo dall'ex APAT, quindi l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Mi occupo da quando sono entrata a lavorare lì del settore qualità e monitoraggio delle acque interne italiane e come nostro compito abbiamo quello di raccogliere tra tutti gli altri anche quello di raccogliere i dati del monitoraggio svolto dalle agenzie quindi sul territorio e ormai da 14 anni questi dati li elaboriamo in una pubblicazione che è l'annuario dei dati ambientali dove tutte le matrici vengono analizzate, riportati i dati di monitoraggio e nel corso degli anni sono stati costruiti svariati trend su come si sta evolvendo la situazione. Per chi conosce l'annuario si sarà accorto che negli ultimi due anni dati di qualità delle acque interne in realtà sono stati molto scarsi perché stiamo passando ancora per molte regioni in una fase di transizione tra il vecchio e il nuovo monitoraggio nuovo monitoraggio che deriva da ciò che ci indica la direttiva europea sulle acque che ha comportato un notevole sforzo di riadattamento di tutte le attività di monitoraggio perché si sono andate ad incrementare molto le attività delle ARPA. L'irricepimento della direttiva europea quindi il decreto legislativo 152 oramai del 2006 attraverso i suoi decreti attuativi prevedeva il primo ciclo sessennale legato alla durata dei piani di gestione dal 2010 al 2015. Quindi siamo in dirittura d'arrivo sul primo piano di gestione e quindi sul primo ciclo di monitoraggio. Cicli di monitoraggio che sono scadenzati a triennio o a cicli di sei anni a seconda della tipologia di monitoraggio. Per il prossimo annuario dei dati ambientali inizieremo, ricominceremo a mettere i dati di qualità delle acque interne su fiumi e laghi. Io mi occupo fondamentalmente di questi due corpi idrici. Perché? Perché ormai il primo triennio è finito già da un paio d'anni. Le agenzie e le regioni hanno già elaborato i dati e quindi è uno sforzo diciamo minimo, è una prima prova che facciamo di ritorno di questi dati e ricominceremo a dire come stanno le acque interne in Italia. Questa è un po' la situazione che esce fuori per le singole regioni. Su questo triennio ho fatto una piccola indagine sia su siti internet che parlando direttamente con i colleghi delle varie agenzie in preparazione della richiesta dati per l'annuario. Diciamo che il triennio è completo per quasi tutte le regioni. Alcune hanno iniziato un pochino più tardi. Ci sono dei buchi, non perché non... Ad esempio il friuli Venezia Giulia è vuoto qua, ma perché sia sul sito internet non sono riuscita a contattare le persone in questi giorni per completare la tabella. Quindi ho dei dubbi sulla Liguria, so quello che stanno facendo, però diciamo formalmente non c'è stato un riscontro formale. La situazione va bene per quasi tutta Italia, la tabella è completa, tranne per il sud, dove Basilicata, Calabria e Sicilia ancora non hanno la possibilità di fornire dati sul monitoraggio. Speriamo che questa situazione col tempo vada a migliorarsi in modo da poter avere il quadro nazionale completo. Questa è la situazione invece per quanto riguarda l'applicazione degli indici biologici in Italia per i fiumi, sui 4 EQB gli indicatori biologici dei fiumi. Anche qui la situazione è abbastanza completa. Quella sui pesci è un pochino più bucata la situazione italiana. Le situazioni in verde diverso sono regioni che lo applicano, siccome io mi sono riferita all'attività delle ARPA, sono realtà regionali dove viene esternalizzata l'applicazione del metodo. Quindi viene fatto, ma viene fatto da uffici provinciali, insomma da altri uffici. Dove c'è il rosso invece sono regioni che ancora non lo applicano, non lo usano per la classificazione. Questa invece è la situazione sulle acque sotterranee, l'indicatore SCAS. Sempre per il triennio 2010-2012 abbiamo una copertura anche qui centro-nord Italia e isole in questo caso e il sud rimane sempre purtroppo carenza di dati. Allora questa interesserà più che altro i colleghi delle agenzie che sono presenti. è la richiesta dati annuario sul triennio 2010-2012 che è partita oggi, penso, dall'ISPRA alle direzioni delle ARPA. È una tabellina molto sintetica, estremamente stringata, dove vengono chiesti pochi dati che ci serviranno a noi per l'elaborazione della cartografia fondamentalmente, per ridare un ritorno cartografico di facile lettura al pubblico, che non è solo tecnico quello dell'annuario dei dati ambientali. Quindi sappiate che nei prossimi giorni verrete contattati proprio per riuscire a compilare insieme questa richiesta dati, questa tabella. Che cosa stiamo facendo? Il lavoro non si è fermato perché, diciamo, da quando è uscita la direttiva europea ci siamo mossi insieme all'agenzia, insieme agli enti di ricerca per tutto il lavoro fatto con l'Europa sull'intercalibrazione dei metodi biologici, su alcuni sta ancora andando avanti. Stiamo un pochino più indietro su argomenti specifici come i corpi idrici altamente modificati e l'idromorfologia sta continuando a lavorare. Per quanto riguarda l'idromorfologia si sta facendo ancora un lavoro di relazione tra idromorfologia e biota passando dai tratti all'unità morfologica. si sta facendo un approccio multiscala partendo dall'analisi di bacino, è in corso il rilevamento e la mappatura delle unità morfologiche dei corsi d'acqua e la collega che si occupa, l'ingegner Bussettini che si occupa di questo lavoro mi ha detto che ci sarà un prossimo incontro tra le agenzie ISPRA proprio sulle discresie che sono uscite fuori nell'applicazione delle metriche per l'idromorfologia. Per quanto riguarda invece i corpi idrici altamente modificati il Ministero dell'Ambiente ha istituito un gruppo di lavoro tra ISPRA e gli esperti degli enti di ricerca o agenziali che si sono occupati di questo argomento e di gli indicatori biologici per valutare le metodiche da applicare su questa tipologia particolare di corpi idrici. C'è stata per il momento una sola riunione e dovremmo rivederci penso a breve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.